con il tuo ci stai dentro comodo ma comodissimo ma spappi c'ha paura lui non vedi che è in giro a fare il ballerino ma figurati te con qualcosa ci passa altro che vedi quando si alza guarda dove passa su cioè guarda che è tanta per arrivare fino su qua vuol dire che ha riempito tutto acqua c'è dentro 40 50 anni di roba e 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 Oh Michele Paolo non di nè Davvero è buono Meno male che abbiamo un sistema da pulire da parte Mezzo figlio, filma cazzo Paolo ora scendimelo Poi devi scendere eh No, 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 non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Dai Stai libero Ma tieni a te Eh ma quella non buttarla dentro eh La ti rompe il sacco Mettila la sulla strada poi la portano via loro Porta su in strada Ho fatto la pesca miracolosa 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 Grazie.